Picchia il figlio, aggredisce anche la moglie davanti agli altri due figli e finisce in manette, arrestato dai carabinieri per i maltrattamenti in famiglia. Protagonista negativo della vicenda, uno straniero di 43 anni residente in città, rientrato a casa ubriaco. L'uomo avrebbe aggredito il figlio, colpevole di essersi fatto la doccia, consumando così acqua che il padre non voleva poi dover pagare. A quel punto sarebbe intervenuta la madre per difenderlo, finita a sua volta vittima della violenza fino alla frattura del naso. A quel punto gli altri due figli hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. Dai familiari poi sono emersi i racconti di altri episodi di violenza purtroppo frequenti.